Il personale infermieristico assente è stato prontamente sostituito ricorrendo alla flessibilità organizzativa e ai turni in attività aggiuntiva con maggiorazione economica. Così la ASL Toscana Sud-Est risponde a quanto denunciato dal NURSIND, ovvero la mancanza di 17 infermieri il 6 settembre scorso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. L'azienda sanitaria parla di evento straordinario, otto le assenze programmate per ferie, le altre invece legate a malattie, gravidanze e congedi familiari. Una situazione, precisa ancora la nota, prontamente gestita nel rispetto delle norme contrattuali e senza far mancare i servizi ai cittadini. Al personale sanitario vai da ringraziamento, spiega Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche della ASL Toscana Sud-Est di tutta l'azienda per l'impegno e lo sforzo quotidiano. Crediamo che per fronteggiare le sfide della sanità e del personale non sia opportuno alzare i toni. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, cercare di far emergere la prontezza delle colleghe e dei colleghi nel gestire le criticità qualora si presentino.